Turisti per caso, per caso è diventato un grandissimo successo, dalla televisione poi al web, come te lo spieghi? Per caso appunto, davvero, non lo so, abbiamo vinto tre volte il premio Sole 24 Ore come sito, questo all'inizio praticamente, quando dieci anni fa abbiamo cominciato, abbiamo detto, beh c'è il web, perché non facciamo un sito? E' stata una bella avventura, perché poi probabilmente abbiamo anche incontrato le persone giuste, giovani, che ne sanno di più di quanto non ne sappiamo noi. Noi lanciamo, come dire, l'idea spesso, anche in questo caso, per esempio, la nuova idea, la nuova prospettiva è quella di lavorare su una web tv. E io tutte le volte che chiedo a qualcuno che mi parla di televisione, tua figlia, tuo figlio, che cosa guarda, che programma guarda, e mi dicono, ma no, mia figlia è stata avanti al computer, è logico. L'importante è che sul web ci siano delle cose importanti, delle cose fatte bene, delle cose che siano informazioni veramente attendibili, però anche divertenti. Questo crea comunità, crea il più grande movimento di opinione, di progettazione del nuovo, di un nuovo mondo. Se noi non incominciamo a progettarlo adesso avremo solamente del vecchio, il vecchio abbiamo già visto, è in crisi. Su Velisti per caso c'è proprio questa volontà di mettere tantissimo materiale, tutto il materiale che abbiamo fatto in questi anni, materiale che parla dell'Italia e non solo della vela, anche uno solo tour dell'Italia, materiale che parla dell'estero, materiale che parla dei misteri, materiale che parla anche degli aspetti dell'ecologia, di tutto questo. E qui c'è un mio personale www.nomadizziamoci.it, che è proprio, lì parlo di me, e lì c'è molto di questo aspetto, insomma, di un nuovo mondo, di un nuovo modo di vedere le cose, di questo nomadismo che è più intelligente della nostra forse stanzialità. Il mio sogno è vivere con il web, quindi collegato sicuramente, ma in una jurta, in una tenda mongola.